Tutto quello che conosco oggi, la cultura che ho, il linguaggio che ho, è qualcosa che viene dalla mia ricerca, che c'è stata più avanti, c'è stato un episodio particolare. Quando iniziavo a fare il rap avevo un vocabolario semplice, non conoscevo, non avevo letto mai libri, non usavo le metafore, piano piano ascoltavo gli altri rapper italiani, c'è un mio amico che è anche abbastanza conosciuto, si chiama Gamon, che voi conoscete benissimo, mi ricordo una volta ero con Gamon, mi fa sentire una canzone, c'erano proprio delle parole che io non conoscevo, cioè non capivo il significato, allora ho detto, l'ho presa come una sfida perché poi tra di noi c'è giustamente una competizione, anche sana, anche su questo, sull'utilizzo delle parole, quindi non conoscevo le parole, ho detto, no, non va bene, devo mettermi lì e studiare, studiare, amplificare il mio vocabolario. C'è stato un episodio particolare, la mamma di mio figlio, di una famiglia borghese di Trastevere a Roma, entro in casa, trovo una libreria grandissima, un giorno mi lasciano da solo a casa e trovo un libro che era la biografia di un rapper, Ice-T, quindi un rapper della West Coast. Ho trovato quel libro, ho iniziato a leggerlo e non ho mai smesso, perché ho capito che anche la lettura era qualcosa che poteva anche riguardarmi. Io associavo la lettura allo studio scolastico, come tanti ragazzi, che non leggono libri, perché appena gli si dice leggi un libro, pensano al libro di latino, pensano a delle cose che non gli va di leggere, perché gli vengono imposte. Lì ho iniziato a leggere, a leggere, a leggere, e più leggevo e più si amplificava il mio vocabolario. Quindi immaginate questa storia di un ragazzo che cresce in una famiglia umile, povera, mio papà detenuto, mia mamma donna delle pulizie a Torpignattara, un quartiere di periferia di Roma, e mi sono ritrovato dopo anni, c'è stato tutto un percorso da quando ho iniziato, ad oggi ad andare nelle scuole, ad essere contattato anche da università fuori dall'Italia. Sono andato negli Stati Uniti, sono andato in Giappone, nei college, a fare delle lecture con i ragazzi che studiano italiano e cultura italiana. Quindi è singolare anche che in un momento in cui si parla tantissimo di immigrazione, di seconde generazioni, oggi proprio c'è stata una manifestazione grandissima a Roma sulla riforma, sulla cittadinanza ai ragazzi che nascono in Italia da genitori stranieri. Un ragazzo come me che si chiama Amir Issa va nelle scuole, non solo italiane, a parlare di lingua italiana. E prima parlando con loro, non lo sapevo neanche, ci siamo ritrovati a parlare. Lui è italo-uruguayano, lui è italo-tedesco e siamo qui a parlare di parole, di vocaboli. Quindi su questo mi piacerebbe aprire una riflessione.